Un buongiorno da Cetemps. Sull'Abruzzo oggi avremo ancora cieli da poco nuvolosi e sereni, con il passaggio di nuove velature. Nella seconda parte della giornata, sulle zone interne, sarà possibile un modesto aumento della nuvolosità, ma in assenza di pioggia. Le temperature massime sono previste in leve aumento. Le minime saranno stazionate sulla fascia costiera, mentre all'interno sono attesi leggeri salita. I venti, generalmente deboli, saranno di direzione variabile. Mari poco mossi. Il tempo per il fine settimana si manterrà discreto nella giornata di sabato, mentre per domenica i nostri modelli prevedono un peggioramento delle condizioni mete. Per ora questo è tutto dal Cetemps, linea allo studio.